Assaltavano banche ed uffici postali, 5 i colpi attribuiti alla banda commessi tra gennaio e febbraio 2018 tra la Toscana e le Marche per un bottino complessivo di 37.000 euro. Per loro, tre rapinatori siciliani nel corso del fine settimana scorso sono scattati gli arresti da parte dei carabinieri. Due di loro, un 45enne catanese ma da tempo stabilito a Pesaro ed un 31enne detto Lupen, residente a Catania, sono stati raggiunti dal mandato di custodia cautelare direttamente nel carcere di Villa Fastigi dove si trovano tuttora detenuti già arrestati il 23 febbraio per una delle rapine effettuata alla Carif di Livorno. Il 23 gennaio scorso. Il terzo, invece anch'esso catanese, detto Scialuppa, è stato individuato e catturato nel cuore della notte a Catania, nel quartiere Librino, dai carabinieri del nucleo operativo di Catania assieme ai colleghi pesaresi dopo un roccambolesco tentativo di fuga in Motorino, il quale però ora si trova detenuto nel carcere di Catania. Oltre alla rapina di Livorno, altri io sono stati attribuito e anche a seguito dei riscontri fotografici delle videocamere di sorveglianza degli istituti di credito. La rapina alla Carim di Pesaro in via Mastro Giorgio del 18 gennaio, quella duplice all'ufficio postale numero 5 di via Salvatori a Pesaro del 31 gennaio e primo febbraio e quella allo sportello dell'Ubibanca di Largo Madonna di Loreto del 23 febbraio scorso, sempre a Pesaro. Si è conclusa quindi una complessa ed articolata indagine svolta dai reparti investigativi dell'arma di Pesaro, nucleo investigativo del reparto e nucleo operativo radionobile della compagnia, diretti dal comandante provinciale tenente colonnello Luciano Ricciardi e con la conduzione delle PM della procura di Pesaro, dottoressa Valeria Cigliola, titolare del fascicolo e dottoressa Maria Letizia Fucci ed il coordinamento del procuratore capo, dottoressa Cristina Tedeschini. L'indagine ha inizio in seguito ad una rapina perpetrata il primo di febbraio 2018 appunto a Pesaro ai danni dell'ufficio postale Algenzia 5, quando intervennero sul posto i carabinieri del NORM e del nucleo investigativo dell'arma specializzati in questa tipologia di reato. Partirono allora serrate indagini un po' spinti dall'emotività della gente con spunti di interesse acquisiti attraverso alcune immagini della videosorveglianza, da dove si è compreso che la banda era composta da due o tre persone e che utilizzavano per fuggire autovetture utilitarie sulle quali poterono partire subito gli accertamenti. E' stata così ricostruita un'escalation di cinque rapine in banche ed uffici postali a mano armata conclusosi con l'arresto in flagranza a Pesaro nel febbraio del 2018 dei due partecipanti autori per mano degli stessi uomini dell'arma ed ora definitivamente stroncata con la cattura anche del terzo componente in Sicilia, nonché l'attribuzione agli altri due di tutte le rapine.